Kadiza Sultana, una ragazza londinese fuggita in Siria per unirsi all'ISIL, sarebbe morta in un raid aereo compiuto dai russi su RAC lo scorso maggio. La studentessa era fuggita insieme a due amiche 15 anni nel febbraio del 2015. Erano state riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto di Gatwick mentre lasciavano il Regno Unito. La sola cosa che ci si può augurare è che resti come una lapide, una testimonianza dei rischi che si corrono in una zona di guerra, dice l'avvocato della famiglia. Speriamo dissuada le persone dal compiere questa scelta. La sorella di Kadiza, l'ultima ad averle parlato, sostiene che le avrebbe confidato di avere paura. Non si sa ancora nulla invece delle altre due ragazze. Sono 800 i cittadini britannici che in vario modo si sono arruolati nell'ISIL.